Musica Ben trovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. È un vero piacere avere con noi quest'oggi Chiara Bortolas, che è la Presidente di Coldiretti Belluno, che saluto e ringrazio. Bentrovata Bortolas. Ringrazio io voi. Grazie del tempo che ci dedica, abbiamo tanti argomenti da affrontare assieme, partiamo però da quello che è stato certamente il tema principale, se vogliamo comunque, che ha caratterizzato l'attività di questo 2024, di Coldiretti in generale, non solo di Coldiretti Belluno, perché c'è stato il festeggiamento per gli 80 anni, i festeggiamenti a Roma se non sbaglio. Abbiamo raggiunto un traguardo importante, è stato un momento davvero anche toccante per certi versi, perché come Coldiretti abbiamo ripercorso tutte quelle che sono state le battaglie di questi 80 anni. battaglie che hanno voluto dare dignità alla gente dei campi, far capire che serve rispetto per chi fa e vive di agricoltura e soprattutto abbiamo cercato di tracciare quelle che saranno poi le iniziative che porteremo avanti nei prossimi anni, perché 80 anni sono tanti, ma le cose da fare e le lotte da portare avanti sono ancora tante. Tra l'altro a Roma è stata una cerimonia anche, immagino, molto emozionante, Bortolassa, la presenza del capo dello Stato, Mattarella. Il presidente Sergio Mattarella è stato con noi per tutta la mattinata e ha detto davvero delle parole molto toccanti. Ha ringraziato gli agricoltori per il loro ruolo di sentinelle, per il loro ruolo attivo ogni giorno per portare sulle tavole degli italiani dei prodotti di eccellenza. Ha detto che la Repubblica sa qual è il ruolo che l'agricoltura italiana ha all'interno della res pubblica. E proprio in occasione di questo evento nella Capitale è stata lanciata un'ulteriore sfida che riguarda il mondo agricolo. Vuoi ricordarci? Dunque, in tutti questi anni tra le varie battaglie che Coldiretti ha sempre portato avanti ci sono state quelle sull'obbligo dell'etichettatura. In questo momento noi vorremmo richiedere che venisse anche applicato a quella che è l'origine in etichetta. Perché da sempre siamo accanto anche ai cittadini che sono i nostri primi partner e sono i consumatori. Quindi ognuno di noi ha il diritto di essere informato su quello che porta in tavola ma anche su quello che acquista. E quindi c'è questa iniziativa per una legge di iniziativa popolare. Quindi dobbiamo raggiungere un milione di firme e insieme anche agli altri paesi europei vogliamo che l'origine venga ben evidenziata in etichetta. Poi il cittadino consumatore sceglierà se acquistare o meno un prodotto ma ha il diritto di sapere che quel prodotto, da dove viene quel prodotto, come è stato fatto, se effettivamente è italiano, se non lo è, se è bellunese, piuttosto che arriva da paesi in cui magari non c'è il rispetto della salvaguardia delle persone e non c'è neanche il rispetto delle minime norme igienico-sanitarie. Ecco, altro tema fondamentale per l'attività di Coldiretti, Portolas, è quello della formazione, anche dell'educazione delle giovani generazioni. E proprio di recente c'è stata un'iniziativa che vi ha visto protagonisti, mi riferisco al treno della salute. Sì, l'educazione per noi comunque come imprenditori agricoli è sempre davvero un punto fermo, nel senso che facciamo il lavoro più bello del mondo ma vogliamo anche trasmetterlo alle nuove generazioni. Anche quest'anno esiste il progetto Seminsegni, anche in provincia di Belluno abbiamo davvero un numero importante di classi che hanno aderito, sia come scuole dell'infanzia ma anche scuole primarie. E di questo siamo ben contenti, nel senso che vuol dire che in questi anni, quando siamo entrati nelle scuole per parlare di agricoltura, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e siamo continuamente cercati. In più siamo comunque da anni partner anche del CUAM e quindi quest'anno siamo stati ospiti anche del treno della salute che ci ha visti i protagonisti per ben due giorni con alcune scolaresche per parlare di stagionalità, di prodotti locali. E anche quest'iniziativa secondo me ha raggiunto il suo obiettivo perché le insegnanti sono rimaste davvero contenti, i bambini come sempre sono curiosi e hanno voglia di capire e di imparare cose nuove. Ecco, quindi insomma si parte da piccolissimi ecco ad apprendere diciamo anche i principi appunto della sana alimentazione. Voltiamo pagina, so che è stato messo in piedi in provincia da qualche mese ormai anche il tavolo dedicato all'agricoltura. Che tipo di iniziative anche in questo caso vengono svolte? Avrete qualche incontro prossimamente? Allora ringrazio ovviamente Silvia Caligaro che è la consigliera provinciale che appunto si occupa anche di agricoltura oltre che di fauna selvatica e di caccia che ha voluto incontrare le categorie economiche legate all'agricoltura. Ci siamo incontrati e abbiamo parlato di quelle che possono essere le iniziative che la provincia può portare avanti per quelle che sono le materie di sua competenza. Per cui noi abbiamo parlato sicuramente di fauna selvatica ma abbiamo parlato anche di rifiuti, smaltimento dei rifiuti perché come agricoltori abbiamo anche i rifiuti da smaltire e non li possiamo portare all'ecocentro, dobbiamo smaltirli in maniera corretta e quindi il fatto che ci sia un tavolo provinciale in cui si può parlare di un problema che riguarda tutta la provincia e non solo alcune zone è importante, così come quella richiesta che è stata fatta per un piano di polizia rurale che sia unico per tutta la provincia, che non sia di ogni singolo comune perché magari un agricoltore si trova ad avere dei terreni in più comuni e deve rispettare piani diversi perché i comuni ne hanno fatti di diversi. Quindi lavoreremo sicuramente accanto alle altre associazioni di categoria e con la consigliera Calligaro anche proprio per cercare di trovare delle soluzioni per gli agricoltori. Quindi lavoro di squadra, diciamo così, lavoro di rete. Mentre lei parlava di fauna selvatica il mio pensiero è andato immediatamente al tema del cinghiale che so essere una delle questioni che da tempo naturalmente vi coinvolge, una battaglia che con il diretti appunto sta portando avanti a livello nazionale vista questa presenza considerevole di questo animale. Anche perché se all'inizio del 2024 la presenza del cinghiale o comunque i danni da cinghiali sembravano in diminuzione, in questo momento in cui si sta entrando in alcuni campi per procedere alle operazioni di taglio del mais piuttosto che di altri cereali, si nota che i danni da cinghiale sono tanti e sono molto diffusi. Aggiungiamo alla presenza del cinghiale il problema della peste suina africana che comunque è un problema che riguarda anche allevamenti bellunesi che si sono strutturati per evitare l'impensabile, ma non possiamo continuamente lavorare in emergenza. La peste suina africana è una malattia che si conosce, che da tanto è in Italia, serve lavorare non in emergenza ma in prevenzione e quindi anche la nomina del commissario Darold come commissario speciale per la peste suina africana, un uomo bellunese che ha collaborato per tanti anni con la provincia, è un dato importante, è un conoscitore della materia e quindi speriamo che possa davvero trovare una soluzione. Senta, abbiamo parlato del tavolo dedicato all'agricoltura in provincia, ma so che anche nell'ambito di col diretti a livello regionale c'è un ulteriore tavolo che si è formato, che si sta formando sul tema della montagna, che prende in esame anche l'agricoltura di montagna proprio. Sì, diciamo che all'interno di col diretti Veneto, oltre alle riunioni che spesso e volentieri ci sono e che riguardano tutti gli ambiti dell'agricoltura, ci sono poi dei tavoli dedicati, c'è quello del vino, c'è la consulta del florovivaismo piuttosto che quella degli avicoli e noi come provincia di Belluno abbiamo chiesto che ci fosse un tavolo, una consulta dedicata proprio alla montagna. In primis perché noi siamo l'unica provincia interamente montana a livello Veneto, ma perché le problematiche dell'agricoltura di montagna che magari possiamo avere in comune con i colleghi di Verona piuttosto che di Vicenza, in alcuni casi anche con alcuni colleghi di Padova, sono delle problematiche che vanno trattate secondo noi in sedi diverse. Fare agricoltura in montagna è più difficile per diversi motivi, perché lavoriamo in pendenza, perché abbiamo un'alta presenza, lo dicevamo anche prima, di fauna selvatica che a volte compromette il nostro lavoro, ma soprattutto perché la redditività delle nostre aziende è inferiore sicuramente a quelle dei nostri colleghi di pianura. E perché le problematiche, se affrontate con persone che comunque fanno il tuo stesso lavoro e hanno le tue stesse problematiche, magari possono essere trattate e possono essere affrontate in maniera più incisiva. In modo che arrivino poi decisioni politici, no? Esatto, perché poi il tavolo, la consulta si va a rivolgere ovviamente ai tavoli della regione, quindi a chi effettivamente deve emanare le leggi in favore anche della montagna. Senta Bortolas, guardando all'orizzonte c'è la data del 3 novembre, che per voi insomma è una data significativa, giusto? Domenica 3 novembre, quest'anno festa del ringraziamento e la terremo a Feltre in concomitanza con la fiera di San Matteo. Crediamo che un momento di riflessione, un momento di incontro anche per ringraziare per quella che è stata l'annata agraria sia sempre un momento molto importante, è un momento che tanti aspettano anche con piacere per appunto ritrovarsi, per fare un po' di festa anche insieme, per addobbare i trattori, per incontrarsi e magari per persone che da tanti mesi non si vedono è una cosa molto bella. È sempre itinerante, l'anno scorso ovviamente l'abbiamo fatta a Longarone, quest'anno la vogliamo riportare a Feltre. Ecco, sull'annata agraria che cosa possiamo dire? Naturalmente forse è ancora presto comunque per fare delle anticipazioni per essere puntuali, ma in linea generale che cosa si sente di dire Bortolas? Questo meteo vero che crea difficoltà? È stata un'annata un po' difficoltosa, soprattutto perché le piogge incessanti fino a giugno hanno compromesso le semine o comunque le hanno permesse in un periodo più tardivo rispetto al solito. Diciamo che poi con il mese di agosto e luglio si è un po' ripresa la stagione, dal punto di vista delle presenze turistiche sicuramente non possiamo lamentarci. Certo ci aspettavamo magari un mese di settembre, un mese di ottobre che fossero un po' più clementi dal punto di vista del meteo perché in questo momento si dovrebbe procedere anche appunto alla raccolta del mais ma è praticamente impossibile. Siamo ancora a livelli di insilato o comunque di ceroso, non stiamo ancora parlando della granella che verrà raccolta più avanti ma in questo momento non si riesce nemmeno ad entrare in molti campi della nostra provincia. Per di più la granella in questo momento potrebbe avere un'umidità in percentuale molto elevata e quindi rischiamo di non avere la giusta remunerazione per un lavoro che è stato fatto perché può essere che il costo del siccatoio sia molto elevato e quindi dovremo vedere come procede adesso la stagione. Certo che comunque gli imprenditori sempre più stanno coniugando il tema della tradizione e quello dell'innovazione cioè si cerca comunque di far fronte a queste bizzarrie anche del meteo, giusto? Questo va ribadito? Certo, si cerca di fare, come dire, di correre ai ripari, di prendere delle strade diverse ma anche di adattarsi a quello che è il clima che sta mutando ed è innegabile perché anche penso alla coltivazione degli ortaggi, alcuni ortaggi che un tempo qui da noi era impensabile poter avere adesso in questo momento si riescono ad ottenere e magari altri invece scompariranno prima o poi perché sta diventando troppo caldo anche qui da noi. Senta, un'ultima domanda a Bortolassa tenendo conto anche di quello che è stato il ruolo che lei ha ricoperto a livello nazionale mi riferisco al mondo delle donne, delle donne di col diretti, come sta procedendo sul territorio dolomitico l'imprenditoria in ambito agricolo femminile? L'imprenditoria sta proseguendo, ci sono tante piccole e belle realtà perché poi le nostre aziende sono piccole ma sono anche molto particolari, sono tante aziende che si stanno anche, come dire, rivolgendo a quello che è il canale della vendita diretta credo che sempre più aziende abbiano capito e compreso come l'andare direttamente dal cittadino a vendere i propri prodotti a raccontare quelle che sono le esperienze che si fanno coltivando e allevando sia davvero quel qui in più che permette di rimanere sul mercato e molte anche delle nostre giovani donne sanno benissimo come posizionarsi a livello di mercato. In questo periodo poi ci sono un sacco anche di fiere che mettono sempre più in luce la bellezza di queste produzioni, la particolarità e anche come queste produzioni siano legate in maniera indissolubile al nostro territorio. Bene, allora io saluto, naturalmente ringrazio Chiara Bortolassa, presidente di Coldiretti Belluno per il tempo che ci ha dedicato. Io avevo ancora tante domande Bortolassa da farle ma me le tengo in servo per la prossima occasione. Un saluto anche a tutto il suo staff. Grazie mille a voi e spero di poter tornare presto appunto per parlare ancora di agricoltura. Certamente. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.